Bianconi Paolo, tecnico dell'Arcade, un buon pareggio o una mancata vittoria? Diciamo che ci è andata anche bene perché abbiamo pareggiato alla fine. La prestazione dei miei ragazzi non mi è piaciuta, ha troppa frenesia, ha troppo la ricerca della vittoria e fa l'effetto contrario. Le occasioni migliori le abbiamo avute noi e loro hanno fatto tutti i riporti, comunque loro hanno fatto la loro partita onesta e va bene così, il pareggio va benissimo. Aspettavate un Contea così agguerrito o pensavate un attimino? Io ero convinto che Contea è una buona squadra, anche se qualcuno dice, tutte voci, le partite vanno tutte giocate e sul campo si vede la qualità e la voglia di fare le cose. In settimana c'è da lavorare per migliorare la prestazione? Questo indubbiamente perché andiamo sabato a Godeka e loro adesso hanno tre punti più di noi, non tantissimi, dobbiamo giocarcela là, comunque siamo alla sesta del campionato. La squadra mia è giovane, sono ragazzi che devono maturare parecchio, comunque sono soddisfatto complessivamente.